Faccio le unghie a mia sorella e ora, vede l'ora! Mi hai costretta! Prima fase, diamo una forma a queste unghie. Basma! Oh, la forma giusta. Oh, io non sono io la nail arti, quella roba lì. Falle bene. Ma le sto facendo bene. Eh sì. Stai ferma! Ma Basma, ma tremi? Sì, ma se tu metti le mani così... Eh, sono una lumaca. Ah, gli occhi da lumaca, così. Stai zitta. Poi le dobbiamo pulire bene. Dammi qua. Tolgo tutta la polvere che c'è. Tolgo tutta la polvere. Adesso gli ho dato la bella formina. Le dobbiamo pulire. Se stai ferma, tu le tue manacce da gallina. Ok? Ora, con una specie di acetone, il nail cleaner. Sempre di mini. Andiamo un po' a levare i risiedi. I risiedi. Ok? Ok. Se proprio niente. I risiedi di... Come si chiama? Smalto. Lo so come si chiama. Lo scema, non serve che me lo dici. Lo smalto. Così le... E un attimo, le sgrassiamo bene. E poi possiamo mettere lo smalto. Ma che brava. Sembra con le mani da gallina, davvero. Te lo giuro che le mani... Ah! Stai ferma! Ragazzi, mi sa dovevo mettere prima questo. Vabbè, lo facciamo adesso, dai. Ma cosa è? Così diventano... Guardate, belle pulite, belle. Andiamo per poi a fissare il primo strato di semipermanente, o comunque di smalto. Lo smalto che andremo a utilizzare è questo bellissimo bordo... Wow! Non è bordo deficiente! Nel frattempo attaghiamo... Attaghiamo? Cosa ride? Attacchiamo la nostra lampadina. Guardate ragazzi, io adesso lo schiaccio, lo accendo. E una volta che mettete la semipermanente, basta lasciarlo asciugare per 120 secondi. Che ansia, già trema. Già trema! Ho messo lo smaltino, adesso stanno asciugando. Nel frattempo do le patatine in bocca alla... Ah no! Abbiamo messo tutte e due le manine per l'ultima passata. E questo è il risultato, ragazzi. Sono belle? Ti piacciono? Dai, è la prima volta. Adesso devo truccarti? Cosa? Parte 2 per il trucco.